Svelato il murale alla piastra realizzato in ricordo di Gabriel Tejada Reyes e Merito Nayeti, tragicamente deceduti lo scorso 12 marzo in un incidente ferroviario a Berbenno. La comunità giovanile del quartiere sud-ovest di Sondrio, dove risiedevano i ragazzi, ha voluto ricordarli con un'opera pittorica commemorativa. Con l'ausilio dell'artista Giulia Tassi, oltre 30 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni si sono ritrovati per una decina di volte a partire dal 19 giugno nell'area dell'ex pattinodromo alla piastra, dove sono stati individuati i muri preposti all'opera. Hanno scelto di rappresentare scene di vita quotidiana dei loro amici scomparsi, raffigurandoli impegnati a praticare sport o in attività legate al tempo libero e hanno scelto di utilizzare i colori delle bandiere dei paesi a cui i ragazzi erano legati familiarmente, Kosovo e Argentina. L'opera è stata inaugurata davanti a centinaia di persone alla presenza dei familiari e delle autorità. Il progetto è stato coordinato dalla pedagogista Federica Greco insieme all'educatrice Giulia Carletti e a Gaia Missarelli, tirocinante in affiancamento. Il progetto è nato da un'idea dei ragazzi per cui è stato importantissimo partire da loro e ascoltare le loro richieste e le loro esigenze. Loro ci hanno chiesto proprio di accompagnarli in questo percorso che era innanzitutto un percorso di attraversamento del dolore, di accompagnamento di loro in questo dolore. E poi è diventato anche un progetto artistico appunto di arte urbana che è confluito poi in questo prodotto finale, nella creazione di questo murales, grazie anche all'aiuto dell'artista che ci ha accompagnati che è Giulia Tassi. È stato veramente molto anche emozionante. I ragazzi sono arrivati qui con le loro richieste, le loro idee. Per me il lavoro è stato quello di incalanarli in quello che è il lavoro su muro, il murales. Quindi io ho fatto più che altro da guida. I ragazzi sono una trentina e sono arrivati un po' a scaglioni in base alle loro possibilità. Si è stato fatto più o meno, sono 10 metri di muro dove appunto hanno raccontato i loro amici Meritone e Gabriel attraverso le loro passioni. Hanno messo su muro le loro idee, i loro disegni. Io ho proprio fatto soltanto da guida per quanto riguarda la tecnica.